La luna come specchio della nostra anima, la luna come teatro della vita, la luna come esaltazione della natura. Ogni quadro di Antonio Pignatelli trasuda di significati e significanti, rassicura ed esprime gioia. La personale è stata inaugurata sabato sera al Most di Lecce. Il titolo, E tutta colpa della luna, rimanda proprio al ruolo centrale della luna, non solo in quanto presenza fisica, ma, come sottolinea il critico d'arte Toti Carpentieri, come una sorta di identificazione, alfabetizzazione dei topos, paesaggi, mare, natura, donne, sole, luna, modulati e rimodulati, secondo motivazioni personali. La luna è un qualcosa di specifico nel mio io, in quanto la luna è un pianeta che può ingannare, che può dare delle illusioni, ma queste illusioni devono essere concepite con un certo raggio di azione, proprio perché la luna ci può dare anche, ci può fare innamorare, ci può fare piangere, ci può fare, cioè la luna è l'apoteosi del mondo e della mia pittura, cioè io senza luna non vivrei. Nonostante il tema della mostra sia la luna, l'artista non lascia da parte personaggi femminili, intesi in tutta la loro bellezza, dipingendone anche l'anima e la personalità. Nella sua pittura predomina l'oro in quanto elemento capaci di emanare una luce abbagliante che fa entrare il pubblico in una dimensione evocativa e simbolica del reale e non reale, di qualcosa di distante e irraggiungibile, quasi di divino. Nel suo quadro prevale molta luminosità, molta luce, frutto anche dell'utilizzo della tecnica mista. Quali sono i suoi materiali principali? Smalti acrilici e poi tutto ciò che concerne, che possa riflettere, pietre, oro, ma per lo più oro zecchino. Oro zecchino che mi serve ad emozionare, perché l'oro emoziona molto le persone. L'artista ha donato uno dei venti quadri esposti al Cune di Lecce e un altro, l'Albero della Pace, alla Diocesi di Lecce. Antonio Pignatelli, 84 anni, fa parte di quella generazione artistica dei Pignatelli Leccesi, fratello minore di Ercole, zio di Luca, Francesco e Daniele, anche essi artisti. La mostra resta aperta fino al prossimo 9 ottobre.